Pioggia di finanziamenti per le aziende agricole della provincia di Ragusa con i bandi della sottomisura 4.1 del PSR Sicilia. Rispetto a un tetto complessivo di 80 milioni di euro, la regione ha infatti erogato risorse per 232 progetti dell'area eblea con un importo massimo di 300.000 euro per ciascuno tra questi. A darne notizie è il deputato regionale Orazio Ragusa che chiarisce come la provincia eblea sia la seconda in Sicilia dopo Palermo per numero di progetti finanziati. Si attende una ricaduta importante per l'intero comparto, sottolinea Ragusa, che è anche presidente della Commissione Attività Produttive a Lars, ricordando che il bando prevede tra gli investimenti ammessi la possibilità di nuovi impianti arborei e la riconversione varietale di quelli esistenti, i miglioramenti fondiari e le sistemazioni idraulico-agrarie, spianamenti, terrazzamenti, recensioni, viabilità aziendale, elettrificazione, le serre e i tunnel per culture protette, florovivaismo, la realizzazione e la ristrutturazione di allevamenti, stalle, ricoveri, recensioni e il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali. E ancora la possibilità di intervenire su macchine, attrezzi agricoli e attrezzature per trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti, olio, formaggio e altro ancora, nonché la realizzazione di laghetti collinari. Siamo, insomma, parlando di interventi che consentiranno alla nostra agricoltura di procedere a pari passo con i tempi e di diventare il più possibile moderna per cercare di fronteggiare la competitività di altri territori. Non dimentichiamo, infatti, che sono state favorite le produzioni di qualità certificata, oltre agli investimenti che puntano alle strategie di adattamento al cambiamento climatico come il risparmio idrico. In tutto, a livello siciliano, sono stati finanziati 1680 progetti e 232. Come detto a Ragusa, le cifre mettono in evidenza, qualora ce ne fosse ancora bisogno, continua a Ragusa, la preponderanza di questo comparto a livello isolano per la provincia Iblea, che ha bisogno di poter puntare su dinamiche politiche innovative per far sì che le ricadute degli investimenti producano economie e ricchezza, a maggior ragione, in questa delicata fase di ripartenza.